Gentili telespettatori, buona giornata. Il professor Alessandro Orsini, esperto di geopolitica, querela il Corriere della Sera. Dice, mi vogliono dietro le sbarre. Ma che cosa è successo questa volta? Cos'hanno detto al povero professor Alessandro Orsini? Lui risponde subito al Corrierone della Sera. Il professore di sociologia e di geopolitica De Mesi al centro della polemica avrebbe correlato il quotidiano diretto da Luciano Fontana. A svelarlo è il Fatto Quotidiano che spiega le motivazioni. Nella giornata di domenica 5 giugno il Corriere della Sera pubblicava foto e nomi dei personaggi oggetto di indagine da parte del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Loro, Orsini compreso, venivano descritti come la rete italiana di Vladimir Putin. In realtà non è vero. Il Corriere della Sera non diceva che Orsini ed altri erano la rete italiana di Putin. dicevano che erano i Putiniani d'Italia. Non è la stessa cosa. I Putiniani d'Italia si può intendere come persone che sono dalla parte di Putin, ma che siano descritti come la rete italiana di Putin ha un altro significato. Sarebbero manovrati o agli ordini al soldo di Putin. Sono due cose differenti. Una cosa è un opinionista a cui piace un partito. Un'altra cosa è che quell'opinionista faccia parte della rete di quel partito. Quindi magari pagato, magari sovvenzionato, eccetera, eccetera. Sono due cose differenti. Non si può dire che sono la stessa cosa. Che cosa ha fatto il Corriere della Sera? Il Corriere della Sera ha avuto delle informazioni riservate. Ha pubblicato delle informazioni riservate appartenenti ai servizi di sicurezza della Repubblica. Sono gli apparati di informazione che si occupano della difesa, della prevenzione della difesa militare e civile della Repubblica italiana. Sono dossier che hanno creato i servizi segreti su opinionisti, giornalisti, professori universitari, influencer, opinionisti, poi la stessa cosa. Non è la stessa cosa, però andiamo avanti. Non stiamo lì a fare... che questo numero di persone, queste persone avrebbero in qualche modo fatto da megafono alla propaganda russa. Fatto da megafono ci sono appunto questi dossier. In questi dossier probabilmente i servizi segreti italiani vogliono capire se questi sono dei filo putiniani per opinione personale, libera scelta o se dietro c'è una sorta di rete orchestrata dalla Russia a fronte di pagamenti a queste persone. Quello che vuole fare, quello che stanno facendo i servizi segreti è indagare, non indagare queste persone, indagare su queste persone ha un significato diverso, non indagare queste persone in maniera giudiziaria, ma indagare su queste persone, cioè cercare di fare delle ricerche, cercare di capire se siano solo loro opinioni personali peraltro legittime o se ci sia dell'altro. Quindi i servizi stanno cercando di capire se c'è dell'altro. Il Corriere della Sera pubblica delle informazioni riservate. Orsini denuncia il Corriere della Sera per averlo additato come una sorta di complice di Vladimir Putin. Non so questa denuncia quanto possa proseguire o arrivare a una conclusione positiva per Orsini perché il Corriere della Sera pubblica dei dossier che dovevano essere segreti. Sulla pubblicazione di notizie il Corriere della Sera non può essere denunciato perché sta pubblicando, cioè se il Corriere della Sera dice i servizi stanno indagando su Orsini ed altri non è il Corriere della Sera responsabile della notizia, cioè il Corriere della Sera non è responsabile del fatto che i servizi stiano indagando su di lui. Il fatto è differente, che però è un'altra cosa, se il Corriere della Sera può pubblicare notizie riguardanti i servizi segreti. Però questa è un'altra cosa, non compete ad Orsini denunciare il Corriere perché pubblica delle informazioni riservate che forse non può. Lì devono essere in autonomia magistrati italiani che aprono le indagini sul Corriere della Sera per sapere come hanno avuto queste informazioni e poi bisogna capire anche se si possono pubblicare queste informazioni. Quindi una cosa è, si possono pubblicare queste informazioni? Seconda cosa, caro Corriere come le hai avute? Ah no, segreto giornalistico, o me lo dici o prendiamo dei provvedimenti perché tu sulla pubblicazione di segreti di Stato non puoi avvalerti della facoltà, sono cose da giornalisti, le fonti noi non le rileviamo, non le riveliamo. Qui non è una fonte che ti racconta un qualcosa, qui sì è una fonte che ti racconta un qualcosa che non ti deve raccontare perché è segreto, c'è un segreto di Stato sopra. Ecco, sono due cose differenti. Ecco, il quotidiano poi, il Corriere definiva il professore un docente licenziato dall'Università Lewis dopo il clamore suscitato dalle sue apparizioni televisive. Ma attenzione, io l'ho sempre detto, Orsini non è stato licenziato da professore, da docente universitario. Orsini non ha avuto rinnovato il contratto per la direzione dell'Osservatorio Internazionale dell'Università di Confindustria, ma rimane comunque professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Ateneo. Quindi Orsini non è un professore licenziato per le sue opinioni, ma non è più direttore dell'Osservatorio perché non è stato rinnovato il contratto, se non sbaglio con Leni che era lo sponsor, ma lui continua a fare il professore come faceva prima. Quindi che il Corriere della Sera abbia scritto il professore licenziato qui c'è un errore plateale, non si sa se è voluto o un vero e proprio sbaglio. Chiunque legga il contenuto di questo articolo dice Orsini si rende conto immediatamente che la mia foto è stata inserita a caso, immuovitivatamente senza alcun senso. Il coparsir ha indagato su di me e non ha trovato assolutamente niente. Caro Luciano Fontana, so che il suo desiderio di vedermi dietro le sbarre, ma sarà frustrato. Nessuno mi arresterà ed io continuerò a parlare contro le politiche inumane del governo Draghi. E poi qui c'è stata anche la contro risposta del Corriere della Sera. Insomma, questo è il fatto che volevo raccontarvi. Grazie a tutti e arrivederci.